L'eroica è più L'eroica è più ti dà un 2% in più Questa invece è una quel 2% in meno Di percentuale di tu Io prima in un'eroica normale ho trovato un colore esotico per esempio Tra un contrasto di nero fino a un rosso Che bello, il colore Ma io l'ho trovato nell'eroica normale che era in questa qua un'esplorazione eroica Quindi è probabile che ti troppa qualcosa Ma ti vedessi troppa di armi E' una verità esotica pure Con quel 2% in meno però c'è Ma l'ho già fatto l'esplorazione erotica? Cioè eroica con voi? Erotica? Rispetti come mi chiamano? Rottica Ecco Non ho trovato un cazzo Eh ma non è che è raro Ovviamente è erotica e non è eroica quindi E' oggi che non trovo Esotica Cioè eroica Eh esotica anche tu si Esplorazione esotica E' visto ora puoi craftare il borbondamento aereo Sì ho visto E' molto meglio Almeno non è bugato Sì però se mi facevano Se mi facevano la patch dell'ascia che la lanciavi e non te la dava più era meglio Rimetti il segnale Mi pare che sono sotto di lui Ah sì sì ti ho visto Ho visto qualche arcobaleno Ops ma sei caduto? Ah ieri mi sono scannato di dungeon No Del cinchiale Tiratore me le facevo da solo Sono stata la giornata sana Ma vaffanculo Ma poi quei dandy si droppavano quando il tipo era infuriato Però non ce l'ha bisogno dai due minuti Mi devo spaccare una parte su quando stai infuriato Ma devo spaccare una parte precisa o cosa? Per farmi entrare quella roba No Devi fare il dungeon Eh dai mi ha shottato Mi ha shottato Eh ti rinno io What? Quello è stato un must davvero col corno Oh mio dio Perché non l'hai evitato? Ti giuro Eh perché stavo facendo la combo nel frattempo Eh sì facendo la combo ma quell'altro stava fermo Eh quell'altro non lo so Ora è meglio che ti allontani che sono di shot No Mi ha solto uno Forse perché sta sulla gole No Perché ha l'armatura più scarsa Ma non ce l'ho shottato Ah ma ce l'ho starsa Ah a che livello è? Eh C'ho pettolina e gambe al 10 Ah E testa e braccia al 8 se non sbaglio No hai visto comunque lo screen Ho fatto l'elmo al 9 appena l'ho sbloccato Hai visto che come lo store di scarsa? E questo non posso E questo non posso Altro che quello con martello E questo mi richiede un 3D non gemme coda ma un materiale identico con l'immagine identica ma però si chiama in un altro modo E non 2 su 3 Gemme coda è neutrali? Nooo non sono legge un decodo Mi mandi lo screen che ti dico subito cose Che ora li so tutti sti materiali quali sono Sì questo qui Lo vuoi sapere perché li so tutti perché li so tutti i boss per quelle cazzo di zanne Aspetta io ho tenuto Ah vabbè le zanne vabbè si Guarda sono easy basta che rompi la testa a un nemico Quali zanne si servivano? Aspetta furiosi o no? Furiosi e neutrali Quindi dovevo ammazzare un nemico quando si incazzava li dovevo spaccare le corna Tipo al scinchiare le spaccavo tutte e due le corna Però mica lì disse lo sapevo quindi mi son fatto tipo 10 crani Ma quanto era difficile da fare ieri quella missione là Di rompere gli artigli ai nemici entro 2 minuti Che poi te ne davano a uno Ah sì poi dopo l'ho fatto da solo ammazzando il castoro Siamo i gunsler Non sai come facevo? Ma appena lo vedevano andare mi attivevo la pozione quella che mi mandava i danni di impatto Li tiravo la sciata in testa Cadeva per terra Allora gli facevo la combo dei triangoli e gli staccavo le gambe Guarda sono ancora tipo Full con una cura E niente Elm esotico bello Con tanta difesa In realtà non ho visto quando si è stato atterrato Mi conservo la ulti per quando mi atterra il nemico In modo che poi posso shottare tanto Ora ti puoi fare atterrare tranquillamente Uda Non mi vogliono shottare Oh guardami Guardami Mi vedi? Ok Dai che il nemico con un colpo mi uccide ne sono sicuro Eccomi eccomi ora muoio Chi è che se l'ha stannato? Ora muoio Sì sono morto guardami Guardami Eh l'ha sprecata L'ha sprecata L'ha sprecata Ho sblocato un perro Che può più la me lo metterò Che si chiama rifiuto della morte Il mio cadavere è qua Capito E' la luce che avevo nell'elmo Comunque ho splocato una cella che si chiama rifiuto della morte Ecco questo era il bug Che non hanno ancora risolto vabbè Cioè quando mi rianimi dopo quell'abilitare E rispondo con un'HP Quello è un bug che non vogliono proprio risolvere Ah Sennò l'elmo di suo 15 secondi di Dio Guarda è bella la lanterna Quella del Cosciai Quando uso lo scudo Che entri dentro la sfida Bro Sotto male sto nemico Ah comunque Che ho scoperto che l'ascia Quando fai l'attacco caricato Lo devi fare perfetto Lo devi premere Guarda quando fa l'ultima fase No toglie con l'ascia Cosa? Toglie 4000 Con l'ascia un mio amico Se ci abbina l'elmo che ho io Toglierebbe tipo Sui 7000 Ma io pure Io tolgo 4000 Eh con l'attacco di quadrato Ma io ti dico Io se mi potenzio l'attacco con le cose E uso pure l'andreddras Che riesco a fare 5500 Però non dico 5000 Triangolo o adrato? R1 Quando la lancio Poi se faccio la combo Quella con triangolo Eh li dico quadrato Triangolo Sennò lui fa su di me Io dico Quando faccio triangolo Tipo la ruotellina Fa male Poi come cade Poi può fare l'attacco quadrato Quella libertà C'era che si mette Oddio Sono riuscito a Tipo Uscire dalla barriera Anche quando si era già creata Vabbè I balti No Io sono dentro la mia ascia e fuori Ok è ritornata qui Eh Io sono dentro di lui Non ci fate caso Wow Magico Ma dai stavo schivando Ma cazzo è Cristo Dai Bucchiamo il mio stomaco Ok sta per morire Ma perché schiva ma non schiva Come cazzo è Premo il cerchio Rimane fermo O mi sto leggendo tutto Ma sai che sappiamo Quasi tutti esse Come è grado C'è Le so di garantita Tutti Sì però I sapevi Insasiabile Sì Sì Non me lo fai tu Sì L'ho troppato Non me lo scherzo L'ho troppato Non me lo scherzo